luna arancione eccola qua cari utenti di youtube eccola qua la state vedendo appare chiaramente in piccolo e sopra però è celata da una nuvola che la copre quasi per intero vedrà però si riesce a vedere c'è il tipico colore arancione ovviamente che la contraddistingue e che appare a noi di tale colore di tale tonalità molto bella da vedere ovviamente il colore è omogeneo ora è rimasto un piccolo spicchio e basta e basta così insomma ecco vi ringrazio per l'ascolto per la visione di questo video di oggi iscrivetevi se vi va mi raccomando commentate dunque linea arancione a tutti gli effetti visibili qui a roma capitale d'italia ma anche penso altrove iscrivetevi al prossimo video dal vostro leandro narratore italiano